Ma replicare a chi non c'è è sempre molto faticoso. Però una cosa ci tenevamo sia la relatrice Bargero che io stesso e anche altri colleghi che avendo lavorato per diverse ore su questo provvedimento non possono accettare che si dica che il Parlamento ha ratificato di fatto un provvedimento senza modificare nulla. Questa è una bugia, non corrisponde al vero, basta fare un normale testo a fronte e ci si accorgerà che in realtà sono state fatte delle modifiche anche molto importanti e con una discussione anche molto seria e approfondita. Per il resto un'ampia discussione l'abbiamo fatta in Commissione, oggi sono state dette cose importanti da un lato, da un altro, da parte di alcuni colleghi veramente forvianti e a nostro paese che non corrispondono assolutamente al vero. Vediamo come se si potrà fare una discussione in aula e quindi per il resto rimandiamo all'aula la discussione. Grazie. Grazie onorevole Bratti. Intendo che questo sia anche la replica della deputata Bargero che aveva comunque anche lei del tempo. Ha facoltà di replicare se ritiene il rappresentante del Governo che non ritiene. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà le ore 15.30 per lo svolgimento delle ulteriori discussioni generali all'ordine del giorno. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.